Si svolta al Teatro Marrucino di Chieti la seconda sessione della 17esima edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico della Camera di Commercio di Chieti. La cerimonia ha visto la consegna di ben 122 medaglie e diplomi a piccole e medie imprese, artigiani e commercianti, agricoltori e industriali, ma anche primari e aziende che si sono distinte nell'internazionalizzazione, inventori di brevetti di utilità economica e sociale, giornalisti ed emigrati che hanno realizzato il loro sogno imprenditoriale all'estero portando alta la bandiera dell'Abruzzo. Particolarmente importanti i due premi speciali che sono stati assegnati quest'anno al poeta Raffaele Fraticelli e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il grande impegno di uomini e di mezzi profusi nell'aiutare la popolazione aquilana colpita dal sisma del 6 aprile. Un premio ritirato dal capo del corpo, l'ingegnere Antonio Gambardella, insieme al direttore generale dei Vigili del Fuoco dell'Abruzzo, l'ingegnere Dante Ambrosini. Ogni anno cresce il numero dei premiati, ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Chieti, Dino Di Vincenzo, e questo ci fa riflettere su quante siano le persone che, attraverso una laboriosità spesso silenziosa e lontana dai riflettori, abbiano dato per almeno due decenni il proprio contributo alla crescita dell'economia della nostra provincia, sia come dipendenti sia come imprenditori. In questa difficile situazione economica generale e dell'Abruzzo in particolare, questi premi assumono un valore ulteriore, superiore e soprattutto esempio per le nuove generazioni, ha concluso Di Vincenzo. Particolarmente emozionato al termine della proiezione del video che ha ripercorso il lavoro dei Vigili del Fuoco all'Aquila, il presidente Di Vincenzo ha consegnato poi il premio nelle mani dei due dirigenti del corpo e ha affermato come quello dei Vigili del Fuoco, non è una gira e protocollare, ma è una missione animata da un civico senso di responsabilità. Alla cerimone hanno portato il loro pensiero sui temi del lavoro, sottolineando il valore della fedeltà del contributo dell'economia locale ai rappresentanti delle istituzioni, a partire dal sindaco di Chieti Francesco Ricci, al vicepresidente della regione Abruzzo Alfredo Castiglione e hanno assistito anche gli assessori regionali Mauro Febbo e Federica Carpineta, oltre al presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppe Antonio. Particolarmente apprezzato infine l'intermezzo musicale con il maestro Vittorio Centolo al pianoforte e con il baritano Renato Calderale che ha concluso con l'inno nazionale.